Salvatore Di Giovanni, anno nuovo, stagione nuova, anche un notaresco nuovo progetto rinnovato rispetto all'anno scorso dove siete stati inevitabilmente la sorpresa del campionato, quest'anno si riparte con quali aspettative? Allora, detto bene, tutto nuovo perché effettivamente abbiamo avuto, c'è stato un terremoto calcistico perché come sapete si è cambiato tutti, sono andati via in tanti, però noi abbiamo avuto la forza e la fortuna, dico io, di trovare subito i sostituti, sostituti che saranno sicuramente all'altezza di chi è andato via e quindi ripartiremo, ripartiremo con le ambizioni di sempre, quello di fare bene perché io credo che questa è una società ormai che per l'ottavo anno fa la Serie D e vogliamo fare bene come abbiamo sempre fatto. L'anno scorso siamo stati la sorpresa in positivo del campionato, quest'anno ci vorremmo ripetere, non sarà facile perché è chiaro che sarà un campionato ancora più difficile, però noi ce la metteremo tutta, abbiamo avuto, come sapete, nuovi ingressi in società e questo per me è positivo perché quando una società cresce sta a significare che ci sono dei progetti dietro, ci sono dei progetti importanti, ci sono più persone che lavorano e più persone che apportano anche sul discorso economico, quindi noi vogliamo fare bene, sono entrati due nuovi soci, anzi tre, sapete già uno è Vincenzo Verducci, storico presidente del notarisco calcio, persona appassionata di calcio e poi ci sono altri due nuovi ingressi, ex dirigenti della Teramo Calcio dell'era Campitelli che sono Mauro Schiappa e Luigi Di Battista. Luigi Di Battista lo conosco da ragazzini, ci conosciamo, quindi so chi è, mentre invece Mauro Schiappa l'ho conosciuto 15 giorni fa, 20 giorni fa quando abbiamo iniziato questa trattativa e penso di aver conosciuto una brava persona, una persona umile, una persona che si addice al mio modo di essere, quindi felici che sono entrati, lui farà il presidente del settore giovanile, mentre invece Luigi farà il vicepresidente sempre del settore giovanile, perché il settore giovanile è importante, per me è importante, per la società è importante, sta di fatto che vogliamo migliorarci ancora, perché come sapete abbiamo fatto l'ultimo anno con gli allievi, siamo stati campioni d'Abruzzo e abbiamo partecipato alla Final Six di Cesena, che è una vetrina importante, siamo praticamente la terza squadra italiana, quindi questo è importante, vogliamo con l'apporto di Mauro, vogliamo crescere ancora di più, perché questo è il nostro obiettivo. La squadra sarà un mix di giovani con esperti, tipo Pomanti che è detto, noi abbiamo un ottimo settore giovanile e quello vogliamo valorizzare, forse per la prima volta quest'anno saranno tutti fuori quota, adesso lunedì partiranno per Castiel del Monte, per il ritiro, abbiamo praticamente, sono tutti del nostro settore giovanile, ad eccezione dei due portieri che dobbiamo trovare che non abbiamo, questo credo che sia importantissimo e credo che poche società facciano questo.